Diciamo sempre che siamo in pandemia, cioè in presenza di una malattia estesa in tutto il mondo dovuta alla presenza di un nuovo germe. In realtà quella che si sta verificando in questo periodo sta diventando una sindemia. Che cos'è una sindemia? La sindemia è la relazione che esiste tra più malattie e condizioni ambientali o economiche. L'interazione tra queste diverse condizioni rafforza ciascuna di esse, è diversa dalla comorbidità. La comorbidità riguarda l'individuo, un diabetico, un soggetto affetto da malattie cardiovascolari che prende anche il Covid sappiamo che ha maggior rischio di mortalità. La sindemia è qualcosa di più complesso perché riguarda tutta la popolazione. In generale i più poveri con il Covid diventeranno ancora più poveri e saranno a rischio di maggiori complicanze. Le malattie metaboliche in pandemia saranno curate peggio. Le malattie cardiovascolari, abbiamo sentito adesso l'allarme molto forte della società italiana dei medici cardiologi che dicono che vedremo una mortalità per infarto molto maggiore nei prossimi mesi, la stiamo già osservando. Le malattie cardiovascolari in relazione al Covid peggioreranno. Quindi il problema è veramente complesso. La tentazione di ridurre a parole semplici, a soluzioni semplici, quella che è una situazione molto complessa può essere un grave errore. È facile, noi siamo sempre alla ricerca di soluzioni immediate, soluzioni semplici. In realtà le soluzioni a un problema complesso non possono che essere complesse.